merda hanno già iniziato a fare le pulizie muoversi sono vicini alla baracca grande nemici asservatoio l'ho 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 Affermativo Nel edificio Qui 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 Nel edificio Que Granata! 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 Hudson, li vedi quei fili? Sì, attraversano tutto l'edificio. Ha nominato tutto il complesso. Fate in fretta, gente, non abbiamo molto tempo. Steiner non c'è. Si sta chiudendo! Che succede? Sono Friedrich Steiner. Disturba le radio, sapeva che saremmo venuti. Ci sta guardando dalla telecamera. Dragovic sta distruggendo ogni cosa e persona collegata al progetto Nova. E il prossimo sarò io. Sali in tutti gli Stati Uniti. Dragovic ha agenti dormienti sparsi per tutta l'America. Aspettano solo un segnale per rilasciare la Nova 6. La Nova 6 usata come anno? I numeri delle trasmissioni che significano? Se mi garantite l'incolumità, vi dirò ogni cosa. Mi trovo sull'isola Rinascita, in mezzo al lago d'Aral. A voi la scelta. Grazie. 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 Sì, non ho capito. No, 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 no. Vado lì! 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 Weaver, tu guida! Io vado alla mitragliatrice! Portaci via di qui! Vado lì che non si può esprimere! Vado lì! Invece aiutei li abbiamo addosso! Uff! Solo un minuto! Partiamo! Stupido, cambio intiuverti... Guarda lì! Modena scazzata! Cazzo, viene giù tutta la montagna! Mi sono quasi fatto! Amanetta, vai, vai! Nova Langa aveva sepolto la base. La alza del Weaver Air non riuscite a sopravvivere.